Una chiacchierata tra amici, quella che ha organizzato Alberto Argirò, musicista jazz all'Isola Maggiore, per presentare il suo Lo Zen e il Tiro della Batteria. Un viaggio nell'esperienza della musica accompagnato da Claudio Bianconi. Insieme hanno tessuto consigli di vita, oltre che tecnici, per chiunque suoni uno strumento musicale o sia intenzionato a farlo.